Sono Andrea Vesentini, responsabile tecnico commerciale della ditta Fitogest SRL di Casteldario Mantua. Facciamo parte, il nostro è praticamente un marchio che fa parte del gruppo Cera Lavruzzo. Siamo una rivendita di mezzi tecnici con incluso il centro di stoccaggio, quindi lavoriamo esclusivamente chiudendo il centro, fornendo all'azienda agricola dai mezzi tecnici le sementi fino alla collocazione del prodotto finale perché oggi il lavoro di Cera Lavruzzo è la collocazione delle derrate del prodotto finale. Lavoriamo esclusivamente su contratto, riteriamo tutta una serie di prodotti ma il mais oggi è quello che riveste l'importanza fondamentale perché comunque Casteldario che è all'interno della provincia di Mantua è una zona medicola per tradizioni. Abbiamo già fatto con Singenta delle prove anche l'anno scorso sull'esempio sulla varietà stupendo perché ha una qualità della granella semivitrea quindi molto gradita al produttore finale quindi ai mulini per fare una farina di qualità a livello alimentare e quindi ci sono vari progetti in corso. Vedo che ogni anno che passa Singenta affina sempre di più soprattutto su mais la sua ricerca anche perché comunque Singenta ha una grandissima ricerca alla base quindi quello che il mercato oggi ci può richiedere. Singenta ce la può costruire ce la può dare nel tempo. È un campo ben strutturato visto alcuni ibridi che per la zona di Mantua sicuramente sono di ottimo interesse quindi dai classici verde mass giganti che arma che già seminiamo su larga scala sicuramente inseriremo altri due o tre nuovi ibridi che oggi sono siglati. Singenta non lo scopro io oggi ha un grandissimo catalogo che copre tantissime esigenze su tantissime culture sicuramente sul mais da i prodotti di preemergenza dove usiamo da anni un prodotto come l'Umax che è il prodotto di riferimento come diserbo preemergenza del mais a tutta una serie di diserbi post emergenza. Incluso il discorso oggi molto importante del trattamento contro la piraride e la diabrotica che è un problema rilevante della provincia di Mantua dove si colloca Ampligo che è un prodotto di sicuro riferimento con un'efficacia ritengo estremamente alta che da delle risposte e risolve dei problemi importanti. Siamo otto persone di cui tre tecnici e quindi ogni 15 giorni noi andiamo in campagna e visioniamo tutto quello che c'è da fare e insieme con l'azienda praticamente decidiamo se ci sono degli interventi o qualcosa da fare. Grazie a tutti!